Buongiorno da FTA Online, avvio positivo questa mattina per i principali mercati azionari europei, anche se per il momento il rimbalzo non cancella le incertezze che si sono manifestate nel corso delle precedenti sedute. Il movimento visto ieri per il Fuzzimib in particolare ha riportato i prezzi poco a di sopra dei 23.500 punti, ha contatto con il 50% di ritracciamento del ribasso dai massimi della scorsa ottava, quindi con una resistenza molto significativa che per il momento non è stata superata. Anche oggi perciò grande attenzione sulla resistenza di area 23.500-520 perché solo oltre quei livelli la fase di ripresa che abbiamo visto questa mattina in avvio potrebbe tramutarsi in un vero e proprio trend rialzista destinato a recuperare i 24.000 punti. Situazione analoga anche per il DAX dove la resistenza si colloca a 12.050 punti circa ed anche in questo caso solo il superamento di quella quota lascerebbe ben sperare per un ritorno in area 12.350-12.4. Sotto gli 11.900 punti invece nel caso del DAX avremo una situazione grafica nuovamente deteriorata con probabile ritorno sui livelli di 11.717, dove si colloca la base del gap rialzista che i prezzi hanno lasciato il 20 di aprile in avvio di seduta. Veniamo ora al mercato domestico, questa mattina abbiamo un titolo unicredit molto positivo, il rialzo del 2% a 6,20 euro circa, con Berenguer che ha alzato il target price a 8 euro e con giudizio buy positivo. Il quadro grafico è interessante, nel corso della ultima settimana abbiamo visto il test della base del canale rialzista che è possibile disegnare dai minimi di gennaio, supporto in area 5,97-5,98 euro, praticamente coincidente con la media mobile a 50 giorni. I prezzi ieri hanno testato come già anche nelle due giornate precedenti questa importante area di supporto, mettendo poi a segno questa mattina una forte reazione che come dicevamo ha riportato le quotazioni in area 6,20 euro. Se dovessimo assistere al proseguimento del rimbalzo, anche al di sopra della resistenza che si è venuta a creare in area 6,50, avremo un'ottima possibilità per assistere al test della parte alta del canale crescente di cui parlavamo, con quindi un target che si colloca praticamente sui massimi dello scorso giugno a 6,88 euro circa. Dal destino di Unicredit ovviamente dipende in buona parte anche l'andamento dell'indice nel suo complesso, pensiamo che Unicredit e Intesa San Paolo da soli valgono circa il 25-30% degli scambi totali del mercato, quindi i due titoli si muovono in maniera molto simile. Il superamento di area 6,50 da parte di Unicredit sarebbe da leggere come un segnale molto positivo per la borsa nel suo complesso. La discesa invece al di sotto del forte supporto di area 6,00, farebbe temere una nuova fase calante con i prezzi che in quel caso potrebbero andare ad interessare la base del canale rialzista che si può immaginare dai minimi del luglio del 2012, quindi al di sotto di 5,96 il rischio di discese fino ad intercettare era 5,10, 5,15. Veniamo ora a Snam per il quale RBC Capital Markets ha alzato il target price a 5,25 euro e quindi ben a di sopra dei prezzi attuali. Nel caso di Snam abbiamo avuto un segnale di forza molto interessante ad inizio aprile con il superamento dei massimi che il titolo aveva disegnato a settembre dello scorso anno a 4,58 euro circa. La rotta di questa resistenza è stata seguita da una evidente accelerazione rialzista, successivamente i prezzi hanno consolidato a di sopra di 4,70 euro, ma sembrano ora pronti a riprendere la via del rialzo. Se andiamo a guardare quello che è stato fatto nel corso degli ultimi mesi ci accorgiamo che c'è una tendenza rialzista che sembra in accelerazione verso l'alto, infatti le linee di tendenza che è possibile tracciare sono via via sempre più inclinate e potremo quindi avere a questo punto un ulteriore movimento di rialzo o verso i target indicati da RBC a 5,25 ma con la possibilità nel medio e lungo termine di arrivare anche oltre quei livelli. notiamo che per quello che riguarda il breve termine una prima resistenza si colloca intorno ai 4,84-4,85 euro circa, quindi sul lato superiore del canale che possibile disegnare dai minimi del giugno del 2013. Una resistenza che però se superata confermerebbe l'intonazione positiva del mercato e permetterebbe di ipotizzare una fase crescente ben più ampia. Se andiamo a guardare infatti il grafico settimanale di lungo termine ci accorgiamo che proprio con il superamento di area 4,55-4,60 avvenuto nel corso delle ultime sedute il titolo si è portato al di sopra anche del 50% di ritracciamento del ribasso dai massimi del 2000. un segnale di forza molto importante che sembra a questo punto aprire la strada al test 61,8% di ritracciamento della stessa discesa, prossima resistenza 5,41-5,42 circa. Solo se dovessimo ritornare al di sotto dei massimi che il titolo ha disegnato nella fase iniziale del mese di marzo, quindi al di sotto di area 4,60-4,61 ci sarebbe il rischio di un'evoluzione negativa. Veniamo infine a MyRetechniment per il quale questa mattina hanno un mura alzato il target price a 1,68 con giudizio neutral. Le quotazioni stanno lottando da alcune sedute con la forte resistenza di quota 2,92 euro dove si collocano i massimi dell'aprile del 2014. La rottura di questo ostacolo permetterebbe la ripresa del trend rialzista che abbiamo visto dai minimi del luglio del 2013, un trend rialzista che è stato interrotto da una fase correttiva che si è sviluppata dai massimi dello scorso aprile, che però come vediamo ha ritracciato tra il 50 e il 61,8% del movimento precedente, quindi mantenendosi nell'ambito di una discesa correttiva e la buona base che si è venuta a creare intorno a 1,50 euro, una sorta di doppio minimo dal quale poi abbiamo visto una bella accelerazione rialzista, dovrebbe continuare a sostenere i prezzi anche al di sopra dei 3 euro con un target che a quel punto si andrebbe a collocare sul limite superiore di questa strada crescente che i prezzi hanno disegnato dai minimi del luglio del 2013, quindi con un obiettivo che è ipotizzabile intorno ai 3,70 euro. Solo se dovessimo vedere una discesa nuovamente al di sotto di area 2,55 e 2,60, ci sarebbe il timore di dover considerare la fase di movimento che abbiamo visto dai massimi della fine di marzo di quest'anno, un'area di distribuzione e quindi una fase introduttiva a movimento negativo che potrebbe riportare le quotazioni a ricoprire il diapri alzista che si era aperto il 20 di marzo con una base a 2,12 euro, quindi grande prudenza in caso di discesa di sotto di 2,55 e 2,60. Vi ringraziamo per l'attenzione, vi auguriamo buona giornata e vi diamo appuntamento per domani alla stessa ora.